Buongiorno e benvenuto al presidente di Coda con Scarlo Rienzi. Buongiorno, buongiorno a voi. Voi citate Rienzi, il centro studi di Modena su consumo, ambiente e formazione, il quale dice se si sommano le bollette di gas ed energia 2022, il costo annuo della famiglia tipo è pari a 3.454 euro. Allora, perché siamo arrivati fin qua, Rienzi? Sì, perché abbiamo un governo che c'è, quindi fa finta di non esserci, ma c'è, perché c'è sempre il governo, che non fa nulla per i consumatori e per i cittadini. E quello che fa specie è sentire tutti i candidati alle prossime elezioni, che si riempiono la bocca, parlano solo di bollette, bollette, come se non stessero contemporaneamente anche loro tutti quanti al governo. Che cosa dovrebbe fare quando lei dice non fa? Che cosa dovrebbe fare? Cap dovrebbero fare, come hanno fatto negli anni passati, per il telefono, per altre situazioni, come hanno fatto all'estero, il price cap, cioè un prezzo massimo del gas, e quindi bloccare le speculazioni alla borsa di Amsterdam, dove si verificano le speculazioni delle società che vendono ai grossissi e quant'altro, e fanno salire il prezzo come vogliono loro, poi lo fanno abbassare come vogliono loro, perché ci sono speculazioni proprio sulle azioni legate alla produzione di energie e di gas. È una vergogna. Sentite solo, aprite la televisione, subito sentite uno che dice noi dobbiamo fare qualcosa per le bollette, per le famiglie, per i cittadini, eccetera. Ma come se non stessero al governo? Questo è il concetto, Carlo Rienzi, è chiarissimo. Adesso le voglio però sottoporre un'altra questione, perché ieri il ministro della transizione ecologica Cingolani ha detto entro la fine del mese di settembre arriveremo al tetto, quello fissato dall'Unione Europea al gas. Se non ce la faremo, dice Cingolani, faremo da soli. Allora, le chiedo, da quello che lei ha capito, se un provvedimento di quel tipo a livello nazionale che rischi può avere? Cioè se rischiamo una lenta frattura dell'Europa, perché no, mi immagino che poi a livello nazionale anche altri paesi farebbero altrettanto e quindi in qualche modo andremo a una frantumazione almeno su questo tema dell'Unione Europea, o no? Nessun rischio, ma vi siete accorti? E lo dice un ministro che lo farà entro il 30 settembre quando lui praticamente non ci sarà più? Cioè vi rendete conto di come ci prendono in giro? Invece di fare un decreto legge subito, il governo lo può fare perché c'è un'emergenza nazionale, dicono tutti faremo, faremo, faremo. Tanto quello manco ci sarà più e quindi che gli frega. Allora il problema è fare qualche cosa di diverso. Noi abbiamo fatto un ricorso al TAD della Lombardia che è competente per i gas e la luce, per l'arera e a ottobre decideremo, e questo lo faremo sicuramente perché non siamo legati all'elezione, cioè non dobbiamo essere rieletti e faremo una richiesta al TAD di sospendere tutti gli aumenti dal 31 dicembre 2021 ad oggi perché c'è una situazione di emergenza e il TAD può farlo, ha i poteri per farlo, il TAD della Lombardia. Questa è l'unica speranza che io posso dare ai vostri ascoltatori. Non so che altro dire. Ultima questione è quella che riguarda la vostra iniziativa di solidarietà sociale, pagheremo appena potremo, il tema è quello del rinvio del pagamento delle bollette. Si paga, proponete voi, un solo 20% e poi il resto viene dopo. Le chiedo, Rienzi, su che cosa si fonda questa iniziativa perché poi ovviamente ciascuno di noi si chiede ma se non paghiamo le bollette poi ci tagliano le forniture del gas, della luce. Infatti il problema esiste però esiste una norma del codice civile che dice che quando la prestazione diventa impossibile anche temporaneamente perché non ce la puoi fare a farla puoi sospenderla. Allora noi diciamo di fare appello a questa norma del codice civile. Naturalmente questi reagiranno. Oggi abbiamo avuto notizia di un bar che ha fatto quello che abbiamo detto noi e ha avuto subito una minaccia telefonica dicendo ti tagliamo la luce così il bar va in crisi le frigoriferi si spengono e devi chiudere l'attività. Questa è una estorsione. Noi reagiremo ma è chiaro che è uno scontro con dei soggetti potenti che non solo si sono beccati extra profitti per decine di miliardi e si sono messi in tasca soldi per materiali, energia e gas che avevano pagato dieci volte di meno ma poi reagiscono anche così cioè non capiscono l'importanza sociale di opporsi a questa situazione e pagare anche intanto il 20%. Cioè non puoi accettare intanto un acconto? Certo che puoi. Poi semmai rateizzerò il resto ma è una procedura del tutto legittima naturalmente si tratta di fare degli scontri noi non possiamo garantire che poi non venga staccata la luce e quindi siamo anche noi preoccupati ma chiederemo al governo di intervenire presso le società che gestiscono, erano i servizi e dire voi non dovete staccare né luce né gas perché sono servizi essenziali e perché c'è un motivo di forza maggiore uno stato di necessità nei consumatori che non sono in grado di far fronte a questa situazione. Grazie allora Carlo Rienzi Presidente di Kodakons Buona giornata Buona giornata e buon lavoro Buona giornata Buona giornata